Dite quello che vi pare, è vero, io ho annunciato il mio abbandono alla scena italiana perché mi fa schifo però esistono romanzi che ti fanno dire forse questo paese de merda ancora una speranza ce l'ha L'altro giorno spulciando su Amazon le uscite meno male più interessanti sono andato a beccare un libro che fin dalla copertina mi ha veramente ammaliato sto parlando di Hollywood o morte di Gianfranco Manfredi conoscevo già l'autore, avevo già letto qualcosa di suo ma non mi aspettavo un capolavoro del genere e perché dico capolavoro? Perché io raramente leggo dei noir e da non confondere con i thriller e con i gialli il noir è qualcosa di molto più profondo, molto più, come dice la parola stessa, nero che ti potesse veramente terrorizzare dentro ma non nel senso dell'horror proprio ghiacciare il sangue Hollywood o morte è un capolavoro ambientato nella New York degli anni 30 la trama ve la dico in breve perché è facile, quello che conta è tutto il resto abbiamo questo pianista che vuole fare successo nel nascente mondo dei musical la fidanzata che è la cantante e la gente perseguitati dal loro ex manager che non gliel'ha perdonato l'abbandono e si ritrovano in questa America degli anni 30 che è veramente oscura dentro strani omicidi, sparizioni, di tutto di più veramente il nero e il colore per eccellenza di questo piccolo capolavoro e aggiungo complice una prosa di Manfredi che è qualcosa di straordinario io ho comprato, ripeto, questo romanzo perché ho visto la bellissima copertina inizialmente lo volevo comprare in ebook, poi ho visto che l'ebook non c'era e ho preso il cartaceo, hardcover, copertina rigida che devo ammettere fa la sua porca figura anche se io preferisco le morbide però ha una sua importanza un formato così lussuoso per quest'opera ci sta tutto io ve lo consiglio specialmente se vi piacciono le atmosfere quelle più fumose, malate e alcoliche dei primissimi del Novecento in questa America che vive in bilico tra illecita e non lecita una Hollywood in cui tutto è permesso e tutto è possibile fatelo vostro, veramente ne vale la pena costa 19,90 c'è il prezzo di copertina su Amazon l'ho pagato 1-2 euro di meno se non mi sbaglio 17 o 18,90 ma veramente una di quelle letture che ti fanno dire cazzo in Italia gli iscrittori bravi esistono tra virgolette vi ricordo sotto nelle descrizioni del video i link per la chat telegram i link per abbonarsi per il corso dei tarocchi tanti like, tante iscrizioni compratelo, fidatevi e noi ci vediamo alla prossima